È stato un accordo benedetto da Maria Teresa Armosino, parlamentare astigiana del PDL e presidente della provincia di Asti, quello siglato tra Maria Angela Cotto, leader delle due liste civiche Noi per Asti e Asti Più, e Giorgio Galvagno, sindaco uscente e candidato a guidare la futura giunta di centrodestra se le sorti del ballottaggio glielo consentiranno. L'apparentamento non era per nulla scontato. Alcune voci infatti serpeggiavano un'iniziale intesa Cotto-Arri per Fabrizio Brignolo. Poi così non è stato perché con l'avvocato 43enne candidato al vertice del futuro esecutivo comunale è andato solo Davide Arri dell'Udc, al quale è stata promessa la poltrona di vice sindaco. Quindi la decisione di Maria Angela Cotto, che al primo turno elettorale aveva ottenuto l'8,87% dei voti, è ormai presa, e con Galvagno ha deciso di condividere una linea programmatica caratterizzata da diversi punti. Lavoro e sviluppo economico, recupero dei contenitori vuoti, una de-equitalizzazione del comune, servizi sociali e tutela dei fiumi. Abbiamo concordato i punti che noi portavamo avanti come nostro programma. Dobbiamo dire che abbiamo trovato in Giorgio Galvagno la massima disponibilità ad accogliere tutto quello che proponevamo. Dunque a seguito di questo apparentamento e nel caso in cui vincesse Galvagno, lei si aspetta un assessorato? No, io l'ho detto fin durante la campagna elettorale che non sarei entrata in giunta. Io mi riservo di fare bene il consigliere comunale con uno spirito propositivo e di verifica nell'esclusivo interesse della città. Mando avanti dei giovani, mando avanti delle donne, proprio perché sono convinta che cambiare si può e penso che la nostra città debba essere governata da tutte le generazioni.